Salve mister, Martedì lei ha detto in un'intervista che chi gioca a Napoli difficilmente vorrebbe andare via, volevo capire se il discorso vale per tutti e anche per chi come te è accompagnato da bucci di mercato e se più in generale a gennaio si aspetta qualche novità che possa coinvolgere il mercato, grazie. Allora, noi siamo a posto così, ci sentiamo tranquilli così e non vogliamo che avvenga niente, né in uscita né in entrata. Poi se qualche calciatore, è chiaro che si sente nelle condizioni di avere la necessità di andare a giocare di più, perché Demme effettivamente l'ho fatto giocare meno delle potenzialità che ha, un po' anche l'infortunio però, probabilmente io l'ho fatto giocare di meno, se lui vuole andare a giocare cercheremo di rimanere così lo stesso, valuteremo di poter rimanere così lo stesso perché ho a disposizione altri calciatori con i quali si può sopperire alla mancanza di un elemento che si ademme un altro come numero, dico in generale. Poi ci sarà il mercato che nello scorrere può mettere a disposizione cose, ma questo non fa parte dei nostri pensieri, è soltanto una cosa pratica che avverrà. Noi siamo contenti di Demme e preferiamo che lui rimanga a giocare con noi, poi per il resto è lui che decide.